fran marcello lepore al secolo enrico è nato a campo zillone in provincia di caserta il 10 febbraio 1929 da pietro e margherita de luca famiglia religiosa e numerosa nove figli non sarà l'unico in famiglia di intraprendere la vita religiosa anche sua sorella filomena diventerà suor maria adriana della congregazione delle ancelle dell'immacolata di santa maria capo vetere venuto a mancare nel 2002 la vita di fra marcello è trascorsa completamente nella famiglia cappuccina infatti entrò in seminario all'età di 11 anni vestì l'abito religioso il 16 settembre 1946 un anno più tardi emise i voti temporanei e l'8 dicembre 1950 li confermò con la professione perpetua il 21 febbraio 1954 venne ordinato sacerdote a campo basso insieme ad altri confratelli un frate semplice e la sua semplicità traspariva dal sorriso rivolto immediatamente a chiunque lo incontrasse si distinse sin da subito per la sua modestia la sua metodicità che lo hanno caratterizzato lungo tutto il suo cammino di formazione e che si riflettevano nella sua personalità e nella fedeltà nel portare avanti gli impegni che li venivano affidati tra questi incarichi c'è stata anche una breve esperienza a san giovanni rotondo come incaricato per la prenotazione delle confessioni di quanti volevano ottenere l'assoluzione da padre pio padre marcello però non si limitava alla semplice compilazione dei turni il suo anelito pastorale lo induceva ad impegnarsi nell'accompagnamento e nella preparazione dei penitenti predisponendoli a ricevere la grazia del perdono rigenerante e favorendo tante rinascite spirituali e conversioni lo vediamo in queste bellissime immagini degli anni 50 mentre accompagna padre pio con altri confratelli nei luoghi del convento padre marcello ha raccontato che padre pio anche nel partecipare al momento conviviale era sempre attento a quanto avveniva o si diceva al refettorio tra i frati in un pomeriggio d'inverno insieme a padre luciano per allentare un po la tensione del lavoro che svolgevano intorno a padre pio decisero di fare un'escursione sulla montagna che sovrasta il convento l'aria era gelida e per riscaldarsi pensarono bene di portarsi una bottiglietta con un liquore abruzzese che raggiungeva i 75 gradi alcolici salendo ogni tanto assaggiavano in un piccolo sorso e il freddo si avvertiva meno il giorno dopo ognuno tornò al proprio lavoro padre marcello mise ordine al confessionale delle donne che quella mattina sembravano particolarmente irrequiete tanto che fu costretto ad alzare la voce per ridurre alla calma le più vivaci al refettorio assaggiando il cibo si accorse però che la lingua era insensibile ai sapori gridò allora padre luciano che mangiava di fronte a lui sull'altro lato del refettorio alludendo al liquore del pomeriggio precedente padre luciano sento la lingua come bruciata padre luciano non riuscì a rispondere perché fu padre pio di intervenire e perché tu padre marcello stamattina hai parlato troppo al confessionale marcello che di solito aveva la battuta facile non replicò dicendo tra sé meglio che mi sto zitto altrimenti prendo il resto ma padre marcello sapeva anche che a volte con padre pio bisognava insistere per strappare una grazia alla madonna come quando nella verandina del convento gli presentò il caso di una signora di varese che dopo un primo intervento doveva ritornare in ospedale per la sala operatoria padre cosa deve fare la signora padre pio non rispondeva ad un certo punto a padre marcello gli scappò una forzatura ma padre i poveretti sono venuti qui a san giovanni rotondo da lei per chiedere il suo aiuto se fosse stata una cosa semplice l'avrebbero portata a lei e padre pio dopo un attimo di silenzio rispose va bene dille di non operarsi per tutta la sua vita non dimentico mai il natale 1960 quando venne chiamato sull'altare per parlare della festa che padre pio considerava la più bella dell'anno i giorni passavano e il 1961 fu l'anno della partenza per la sardegna destinazione carbonia per il giovane sacerdote cappuccino il giorno del distacco non fu un giorno triste perché fu lo stesso santo confratello che alla vigilia della partenza di fronte al dispiacere del fraticello di separarsi da lui gli manifestò come faceva con tutti i suoi confratelli il suo cuore di padre padre vado in sardegna ed è un po' lontano disse fra marcello e padre pio rispose per i miei figli non ci sono distanze parti tranquilli fatta eccezione per l'attività ministeriale a isernia come direttore dell'opera assistenziale dei vincenzi a carbonia come missionario della pontificia opera di assistenza e a cerignola la vita di fra marcello si è svolta essenzialmente nel convento dell'immacolata in foggia qui sin dal 1964 è stato chiamato a svolgere diversi compiti che gli hanno permesso di mettere a frutto le sue doti intellettuali e il suo carattere laborioso nei diversi anni che si sono succeduti fino al 2010 ha svolto gli incarichi di segretario provinciale legale rappresentante economo guardiano archivista provinciale e soprattutto quello di bibliotecario in questo ultimo ambito ha mostrato tutta la sua dedizione e un grande zelo promuovendo lo sviluppo e organizzazione di ciò che costituisce oggi un importante patrimonio culturale della provincia religiosa fondato proprio da lui nel 1972 la stima della fraternità provinciale nei confronti di padre marcello si è manifestata oltre che nella simpatia e nell'affetto personale anche nell'eleggerlo più volte consigliere provinciale nel 1970 nel 1976 nel 1988 e nel 1991 accanto a tutto questo lavoro che ha impegnato padre marcello nei corridoi della curia provinciale e tra gli scaffali della biblioteca non è mancato il servizio silenzioso delicato dell'accompagnamento spirituale dell'amministrazione del sacramento della riconciliazione a tante persone che pian piano hanno scoperto e apprezzato l'animo gentile e profondo di questo frate cappuccino la sua vita ricca di anni è stata soprattutto ricca di bontà nel 2010 l'obbedienza lo ha condotto nell'infermeria provinciale dove assistito amorevolmente dalle suore e da tutto il personale ha affrontato con serenità l'ultimo tratto di strada durante il quale è emerso con maggiore evidenza il suo carattere pacifico e sereno dopo un periodo di ricovero in casa sollievo della sofferenza ormai provato dalla malattia che lo aveva profondamente debilitato fra marcello ha terminato il suo cammino terreno il 27 settembre 2017 a san giovanni rotondo all'età di 88 anni